Buonasera a tutti, ben rivisti all'intervista pre-partita, siamo alla vigilia di una grandissima partita, uno sconto diretto per la salvezza. Abbiamo con noi Alice Bertoletti il primo libero e come sempre Giorgio Nibbio. Giorgio, come la vedi la squadra prima di questo scontro? Non lo so, la vedrò sabato, sicuramente è una partita molto importante, si gioca veramente una grossa fetta secondo me di salvezza, sarà una partita molto difficile, non sarà sicuramente una partita come l'andata quando l'abbiamo portata via la 3-1 perché è un'altra squadra ancora dopo il Covid e quindi noi sicuramente ci servono punti pesanti perché giochiamo in casa. Alice, dopo il punto preso arriva il Garda, arriva l'Agaris, come hai visto la squadra durante la settimana? Allora penso che ci stiamo allenando bene, stiamo preparando bene la partita e sicuramente dovremmo entrare in campo concentrate fin da subito in modo da riuscire a portare a casa dei punti importanti. Ok perfetto, ci vediamo sabato qui a Gusago nelle nostre dirette YouTube, mi raccomando attivate la campanella e forza Promoball! Grazie! 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 Grazie!